signore e signori eccoci qui siamo pronti per mostrare a tutto il mondo intero quanto possono essere belle le ragazze che potete trovare solo qui da noi al convento di lonato andiamo a presentarvele subitissimo partendo da lei ciao veronica quanti anni hai 19 dove sei hai il moroso mamma mia attenzione ci sono appena infiammate le linee telefoniche vai continuate a chiamarci e vai col televoto ma attenzione perché al suo fianco quella gragnocca è mirella ma come sei bella mirella e di dove sei e cosa fai nella vita brava così ci piace ma dici un vieni a bere aperitivo al convento c'hai il moroso e per caso sei anche imparentata con una ragazza che abbracci pochissimo ma che cosa carina come signori telespettatori lascio a voi la fantasia e l'immaginazione ma attenzione perché in mezzo abbiamo lei per me sono sorelle la più calda la più inimmaginabilmente sensuale lei la gnocca che mi farei dalla mattina alla sera si chiama cosa è il suo nome monica monica di dove sei marmi rollo fantastico io poi siamo della val d'aosta fantastico no non è della val d'aosta perché è meridionale e lui invece ciao come ti chiami io stefano io sono di brescia ci piace ci piace posso dire anche il paese di dove sono chiesa nuova allora avete deciso di cantare una canzone bellissima un nuovo bacio del famoso gigi ma l'ha cantata in dialetto anche si è il grano 440 440 mila chi chi caga senza tocca al decarta senza tocca al decarta non era un fiore ma l'era l'urtica e si spungiù la riga la riga del bene questa ci mancava vai con la sviolinata allora ho messo i puntini alla fine abbiamo sentite tutte ma non abbiamo ancora sentito la vostra voce questo qua la uso nei funerali questa canzone io non le conosco il microfono è qua comunque io dirò le cose dette mai di questo amore noi saremo gli angeli il mio petto da cuscino per la vita ti farà sembra cominciata già una storia senza fine farò girare il mondo intorno a noi alle veline la bionda e la mora arriverà natale senza nuvole le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà e nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà non c'è 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 Per la vita ti farà Sembra cominciata già Una storia senza fine Farà girare il mondo intorno a noi Arriverà Natale senza nuvole Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà E nel tempo che verrà Il mio cuore ti sorprenderà Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà E nel tempo che verrà Il mio cuore ti sorprenderà Na 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 Wow Gigi Gigi D'Alessio We 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 Si pucci Ma che ci frega Ma che ci importa Questo è romano Da me si dice Mo c'è semo Domani puro E chi ci odia va a pigliare Sarendel Pip Wow Wow Come siete stati bravi Bravissimi Grazie Soprattutto le ragazze Te o meno Ve lo so Allora volete dedicarla a qualche duro? Bene Fantastico Io si Io si A chi a chi? Voglio dedicarla a tutte le mie amiche estetiste Del Millennium Di Brescia Sono le più belle Le più brave Quindi per un massaggio Per qualunque cosa Andate tutti al centro estetico Dentro la Millennium Bravo Detto questo Un abbraccio Un bacio Ciao Ciao Ciao